Sono di diverso tipo le zanzare alle quali il Comune di Carmignano ha dichiarato guerra. In pieno svolgimento infatti le attività per contenere la diffusione della zanzara tigre, coreana e comune. Queste specie, diffuse in gran parte del territorio, possono trasmettere alcune pericolose malattie, trasformandosi da un semplice fastidio ad un problema di sanità pubblica. A disposizione gratuitamente ai cittadini, prodotti larvicidi, un kit di 12 pastiglie disponibili nell'ufficio protocollo. A questo si aggiunge un'azione di disinfestazione antilarvale in tutte le aree pubbliche iniziata nel mese di maggio, che si protrarrà fino ad ottobre.